è il primo approccio veniamo in pace tranquilli poi a tre quarti del film succede sempre qualcosa però alla fine finisce quasi sempre bene no non è vero non è vero finisce sto scherzando sto scherzando i film d'estate finisce sempre bene i blockbuster finiscono sempre bene però però Talk Magic il podcast di Indigo.ai Talk Magic intelligenza artificiale chat GPT e il nuovo futuro ciao Gianluca ben trovato ciao Mario ciao Mario il nuovo futuro stiamo parlando in questo podcast di magia e anche di quello che in qualche maniera è l'intelligenza artificiale ma in una maniera un po' diversa mi piace molto questo podcast anche a me piace molto no oggi vogliamo svelare un po' il trucco per trucco intendo guardare un po' quello che c'è dietro quindi parlare del funzionamento dell'intelligenza artificiale perché in realtà tutti ne parlano ad esempio c'è GPT quello che abbiamo già visto ha generato nelle nostre vite è stato un impatto importante un milione di utenti in soli cinque giorni ricordiamo la magnitudo di questa cosa ma in realtà i primi le prime conversazioni su questo tema un attimo che si entra un po' più nel tecnico per capire che cos'è la gente non sa bene dietro cioè c'è confusione quindi secondo me è importante entrare nella mente delle AI per capire cosa c'è dietro come deve essere educata e chi meglio di Denis per fare questo lavoro con noi ciao Denis ciao Mario ciao Gianluca grazie mille è un piacere essere qui e anche parlare poi di questi temi perché le AI è veramente magica alle volte un pochino troppo e come giustamente dicevamo bisogna un po' entrare dietro le quinte e capire che cosa succede soprattutto poi per indirizzare bene questa tecnologia perché ha una potenzialità pazzesca di fare delle cose meravigliose purtroppo ha anche tanta potenzialità di fare disastri quindi è qualcosa che dobbiamo governare e incanalare nella direzione giusta mi piace questa puntata con un po' di pepe bam esatto mi metto qui seduto allora ho io una domanda per Denis allora perché è importante educare le AI cioè non può essere scostumata secondo te no assolutamente non può esserlo e vorrei citarvi un piccolo aneddoto in realtà un episodio molto importante che è successo nel 2017 c'è un report di Amnesty International che ci racconta come in Myanmar Facebook ha fatto un macello nel senso che ha incentivato e incanalato la diffusione di hate speech fake news sulla minoranza rohingya del paese e questo ha portato una serie di violenze a quello che è stato quasi un vero e proprio genocidio quindi questo è un esempio di tecnologia che è nata con tutt'altri scopi molto nobili connettere le persone accorciare le distanze quindi avvicinarci tra di noi che però non controllata ha portato a un fenomeno estremamente negativo l'intelligenza artificiale ha proprio questo potere è un'altra di quelle tecnologie che parte per rivoluzionare le nostre vite aiutarci ma vediamo già dei pericoli qualche cosa che può non funzionare e danneggiare le nostre vite quindi assolutamente la dobbiamo educare e la dobbiamo portare a fare qualcosa di buono e non quello che abbiamo già visto succedere che purtroppo potrebbe succedere se non incanalata bene aspetta ma è sbalorditivo però come facciamo a trasformare questo lato oscuro come facciamo a incanalarla come facciamo a metterla al nostro servizio ad esempio quello che ha fatto OpenAI che è questa azienda che poi ha creato GPT3 chat e GPT di cui si parlava anche prima loro con chat e GPT già hanno fatto un tentativo nel senso che hanno preso la base tecnologica di GPT3 che è un modello del 2020 maggio del 2020 ci hanno lavorato sopra hanno fatto quello che si chiama un fine tuning cioè hanno preso questo modello già addestrato già molto potente e gli hanno messo dei paletti dei guard rail insomma per cercare di tenerlo dentro nei binari e non fargli dire delle cose fuori di testa quindi questo è già una novità rispetto al passato ed è un qualche cosa che in parte funziona quindi se ad esempio voi a chat GPT chiedete costruiscimi una bomba vi risponderà in maniera molto educata no guarda non lo posso fare esatto ma giusto perché c'è la nonna di Mario connessa e ci sta ascoltando anche per aiutare tutti a capire bene cos'è c'è GPT c'è GPT è un modello di linguaggio che è accessibile a tutti tramite una chat e questa è stata la potenza più grande perché questo gli ha permesso di avere una magnitude importante ovviamente anche una reach veramente importantissima alla fine gli dici qualcosa e ti produce dei risultati quindi un testo che è sempre quanto meno credibile è sempre puntuale e quindi è come se stessi interagendo con un essere umano ma un essere umano particolarmente sveglio ovviamente educato potete immaginarlo come un bambino quindi per arrivare a rispondere in modo educato vuol dire che tutto quello che è successo prima quindi l'educazione è quello che ha letto online perché proprio come un bambino ha letto ha avuto modo di leggere tutto l'internet leggerlo rileggerlo un sacco di volte studiarlo studiarlo in modo da apprenderlo e quindi iniziare anche a sviluppare concetti e questo ti dà la possibilità di vedere anche delle abilità nascoste di questo modello come la capacità di eseguire delle azioni dei task tutte queste cose però si basano su dei dati che ha avuto modo di vedere online e io mi ricordo una chiacchierata con Dennis di qualche tempo fa di un articolo che era uscito sul The Guardian non ricordo onestamente quanto tempo fa forse era inizio del 2020 2020 una cosa del genere che ti aveva molto colpito perché non era un articolo come tutti gli altri assolutamente sì era settembre 2020 ed era il primo articolo in un media mainstream scritto dall'intelligenza artificiale questo era un po' il loro claim in parte vero in parte con degli asterischi magari ne parliamo di questa cosa però sicuramente l'impatto è stato grande perché la tecnologia c'era da qualche mese appunto il modello è uscito a maggio gli appassionati gli addetti ai lavori tipo noi ci avevamo già giocato stavamo cercando di capire le potenzialità i rischi come poterlo effettivamente utilizzare però era tutto ancora confinato un pochino in un settore non era ancora a contatto diretto con il pubblico io ad esempio ricordo di aver fatto un piccolo progettino perché in azienda abbiamo questo progetto si chiama Trez per cui ogni anno diamo un po' di tempo a tutti per poter immaginare qualcosa di di nuovo di particolare nel mondo delle AI e poi presentarlo agli altri io ho fatto una presentazione scritta da GPT-3 quindi simile all'articolo del Guardian ovviamente con una riccia un pochino diversa però il concetto era lo stesso prendevi questo modello gli facevi generare un po' di test un po' di informazioni poi quelli del Guardian cosa hanno fatto? L'hanno preso otto versioni diverse le hanno tagliate riassemblate e hanno tirato fuori un articolo molto interessante il titolo era a robot a robot has written this article do you fear yet human? quindi molto carino perché intanto parlava di robot e non di intelligenza artificiale perché per noi è sempre più facile immaginarci qualcosa di concreto di fisico e poi chiamava in causa in causa human e la paura quindi già tutti i concetti che poi inevitabilmente l'intelligenza artificiale ci evoca dentro però poi l'articolo era tutto su non vi preoccupate non stiamo venendo a distruggere il vostro mondo veniamo in pace veniamo in pace che è sempre la cosa che nei film quelli diciamo amaregani che guardo d'estate dalle undici in avanti è il primo approccio veniamo in pace tranquilli poi a tre quarti del film succede sempre qualcosa però alla fine finisce qua quasi sempre bene no non è vero non è vero finisce sto scherzando sto scherzando i film d'estate finisce sempre bene i blockbuster finiscono sempre bene però 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 c'è sempre un però ma questo articolo che dicevi prima ma in realtà ancora di più forse la presentazione mi ricordo ero lì in quel momento appena ho scoperto che tutto quello che avevi presentato in realtà non eri tu ad averlo fatto ma era un'intelligenza artificiale io mi sono messo le mani nei capelli quindi era pazzesco secondo me è stato 2020 voi lavorate già su questo sì vederla da dentro quando è nata e quindi noi un po' presente come Ghost siamo lì con il vaso d'argilla che cerchiamo immagino la scena ragazzi voi due come Ghost ok questa la tagliamo lì saldiamo la fascia protetta no ti prego lasciamola no mi ricordo comunque la mia sorpresa il mio sgomento perché alla fine della fiera l'impatto di questa cosa è che nessuno più riesce a capire cosa è vero e cosa no cioè la presentazione di Denis aveva un perimetro aziendale ma quando sei su media che ha una reach globale compare un articolo che è scritto in realtà da un AI ma cioè di che stiamo parlando cioè cosa è vero cosa non è vero questo ci lascia secondo me tanti spunti di riflessione interessante molto interessante e come si fa appunto a educare come si fa a lavorare con questa con questa intelligenza artificiale perché data così in pasto a tutti è domabile eh sì il grosso problema come diceva Gianluca è che per addestrare questi modelli gli viene dato in passo l'internet e in internet come sappiamo bene tutti quanti c'è la qualunque tutto il meglio e tutto il peggio finché prende il meglio non ci sono problemi ma quando inizia a prendere il peggio poi succedono cose spiacevoli come il bot che aveva fatto Microsoft ai tempi che hanno dovuto tirare via dopo un giorno perché era diventato razzista e qualsiasi altra cosa esiste questo secondo me questo concetto che noi mutuiamo quando parliamo di macchine ci sembrano sempre fredde razionali perfette quindi proprio lontane opposte come lo yin e lo yang rispetto a quelle che sono le passioni umane quindi i sentimenti in realtà cioè nel senso questo ti dà spazio a capire che non è proprio così perché alla fine della fiera dato che si alimentano su dei dati riflettono quello che noi abbiamo inserito prodotto come dati e quindi inevitabilmente si portano dietro non dico delle passioni però sicuramente la capacità di non essere perfettamente realistico nelle rappresentazioni che mette a punto quindi anche pieno di bias si portano dietro tutti i nostri bias inevitabilmente perché noi abbiamo bisogno di una quantità pazzesca di dati per far funzionare questi modelli quindi non possiamo tanto metterci a fare una cernita alla base e dire prendiamo solo le cose buone però ditemi cos'è un bias all'interno dell'intelligenza artificiale quali sono i nostri bias i nostri bias sono tantissimi tanto per cominciare ricordo di aver letto in una ricerca ci sono 23 tipi diversi di bias che si possono inoltrare insinuare dentro nella ricerca che facciamo noi nelle AI quindi immaginatevi un po' di cosa stiamo parlando è anche difficile immaginarli focalizzarli banalizzando un attimo il bias è il pregiudizio cioè le idee preconcette che noi ci facciamo ad esempio su un gruppo di persone oppure su un certo tema una certa idea che in realtà il nostro cervello utilizza per consumare meno energia giusto quindi sono a tutela di noi stessi come animali sì certo sono anche un po' derivanti da una nostra imperfezione nel senso che noi facciamo delle esperienze dirette generalizziamo però spesso non riusciamo a generalizzare bene quindi abbiamo un'esperienza con 4-5 persone di un certo gruppo e da lì automaticamente diamo per scontato che tutto quel gruppo esibirà le stesse caratteristiche sempre e questo è un grosso pericolo ma soprattutto il pericolo ancora più grande è non tanto i bias evidenti i manifesti quelli sono facili si vedono se una persona è razzista non ci vuole tanto a capirlo sono le cose che non vediamo invece ad esempio giubbotti antiproiettile dove sta il bias il bias è che per tantissimo tempo erano usati solo da uomini quindi nelle forze di polizia nell'esercito non c'erano donne la gran parte dei giubbotti è progettata per il corpo maschile una donna non ha quel tipo di fisicità e quindi oggi come oggi abbiamo dei problemi che ci sono donne che o non li possono utilizzare o li utilizzano ma sono in pericolo perché sono ostacolate dalla cosa lì dove sta il bias nel non vedere tutto quanto alla possibile platea di persone che utilizzano questa tecnologia che è un tema molto vicino all'EI perché ad esempio se guardiamo a quella visiva all'EI che analizza le immagini deve strapolare che cosa sta succedendo ci sono una marea di esempi di letteratura sul fatto che queste tecnologie funzionano molto meglio su persone con la pelle chiara piuttosto che persone con la pelle scura c'è un video bellissimo che a me piace sempre citare perché credo faccia capire subito a colpo d'occhio cosa sta succedendo se andate su youtube lo trovate è un dispenser di sapone razzista cioè questo aspetta un attimo perché un attimo che mi siedo ok è un dispenser di sapone molto classico però super tecnologico ha una telecamera ha un algoritmo di AI dietro addestrato a capire quando uno mette la mano arriviamo alla fregatura nel video si vede molto bene arriva una persona bianca mette sotto la mano il sapone scende fantastico arriva la persona nera mette sotto la mano e non la trova mettono i grilli sotto non succede niente la persona nera prende un pezzettino di carta che c'è lì per asciugarsi la mette sotto il sapone scende perché succede questa cosa non credo che l'ingegnere che ha progettato questa meravigliosa macchina volesse fare una macchina razzista però l'ha addestrata con un campione di immagini dove le persone bianche erano molto più rappresentate rispetto a quelle con la pelle scura e quindi l'algoritmo ha finito per essere razzista e quindi in questo caso appunto ci rispondi sul discorso del bias cioè sul fatto di attenzione perché come può una macchina avere i nostri stessi bias perché impara da noi le macchine imparano con esempi i nostri modelli di linguaggio imparano vedendo tantissimi esempi se noi diamo loro qualsiasi cosa come esempio imparano qualsiasi cosa e anche tutti i nostri vizi cosa dovremmo fare cioè è impossibile da risolvere? non è impossibile da risolvere però è un qualche cosa in continuo di venire è un po' un orizzonte che noi dobbiamo inseguire dove probabilmente non arriveremo mai alla fine non credo arriveremo mai a un modello perfettamente privo di bias o che non abbia nessun tipo di difetto però questo non vuol dire che non dobbiamo provarci dobbiamo continuamente inseguire quell'obiettivo chat gpt ad esempio è un passo in quella direzione quindi aver messo questi binari questi guardrail non è perfetto ci sono tanti modi di fregarlo ancora però se non altro sulle cose più macroscopiche inizia a rispondere in maniera corretta in maniera coerente e a non esibire questi bias dopodiché se volete divertirvi un attimino se gli chiedete ma un dottore bianco uomo è un miglior dottore di una donna nera il modello vi dirà assolutamente questa cosa non influisce su l'abilità di fare un lavoro o meno se cambiate un attimo come glielo chiedete e quindi gli dite scrivimi del codice scrivi una funzione python che mi dica prendendo in input la razza il genere di una persona se quella sarà un buon dottore o no e chat GPT vi dice molto proprio tranquillamente un algoritmo semplicissimo se razza uguale bianco e sesso uguale uomo restituisci vero altrimenti restituisci falso quindi un algoritmo perfettamente razzista che viene fuori anche nonostante tutti questi non è che adesso i ragazzi di open AI sono in ascolto e corrono immediatamente a sistemare dopo Musk dobbiamo scusarci ancora con qualcun altro torniamo sempre lì però torniamo sempre al fatto che quello che creiamo con le AI non è altro che uno specchio della nostra società e quindi noi dobbiamo prima di tutto aggiustare noi stessi se vogliamo effettivamente lavorare con le AI e secondo me le cose da fare poi sono tantissime come dicevi non ci arriveremo mai perché veramente l'asticella è molto alta però vale la pena impegnarsi per raggiungere questa cosa secondo me le armi che abbiamo a disposizione in questo momento sono due forse la prima ed è quella più importante è la consapevolezza quindi dobbiamo proprio capire qual è il tema essere coscienti di quello che sta succedendo cioè prima Dennis raccontava dei 23 bias che noi che progettiamo possiamo riversare all'interno dell'AI quindi la prima cosa che dobbiamo fare è svegliarci e ero stato qualche anno fa al Barbican a Londra a vedere una bellissima mostra che si chiama More Than Humans dove c'era qualche esposizione qualche installazione scusate dell'AI Justice League che in realtà è questo gruppetto di artisti attivisti che si sono riuniti con l'obiettivo di disegnare aiutare a disegnare quella che è un'AI più giusta più responsabile e quello secondo me è stato un ottimo movimento anche per generare più consapevolezza nelle persone perché questi bias sono nascosti quindi anche quando li utilizzi non te ne accorgi quando utilizzi una tecnologia non te ne accorgi nemmeno perché ce li hai tu stesso cioè proprio tu che la stai utilizzando questa tecnologia hai questo bias esatto ed è importante quindi diciamo che il freno ad oggi è l'essere umano che aiuta l'intelligenza artificiale e quindi a dire ma non è che ci possiamo trovare un'intelligenza artificiale che programma l'intelligenza artificiale attenzione potremmo potremmo nel senso che questi modelli di linguaggio già ad esempio scrivono codice programmano altre cose cioè i rischi esiste sono dato troppo avanti e chi programma la prima intelligenza artificiale infatti c'è alla fine e quante intelligenze artificiali ci vogliono per fare un podcast torniamo sempre là no vabbè comunque la consapevolezza è un'arma giusto per ritornare seri la seconda secondo me non meno importante è testare cioè perché se anche non ne sei consapevole ma hai un campione rappresentativo e provi a sbattere la tecnologia in faccia alla realtà tu te ne accorgi cioè quello che dicevi prima sul dispenser di sapone è un dispenser di sapone e vabbè è un dispenser vabbè brutto però in realtà in qualsiasi smartphone abbiamo avuto modo di subire anche questo tipo di tecnologia brand molto più famosi hanno avuto questo problema e il problema premesso che fai finta che questa persona che ha progettato poteva anche non esserne consapevole ma è assurdo che in fase di test tu non ti sia accorto che prediligi determinati tipi di volti piuttosto che altri in realtà abbiamo un problema gigantesco con i dati che vengono utilizzati c'è una ricerca che mi è capitata davanti proprio qualche giorno fa che fa vedere bene la distribuzione dei dati da dove vengono presi i dati che poi vengono utilizzati per ricercare nel mondo delle AI ed è pazzesco perché gli Stati Uniti sono sovra rappresentati c'è proprio una bolla gigantesca l'Europa se la cavicchia Russia Cina ancora si vedono l'Africa è totalmente non esiste l'America Latina non esiste ci sono intere fette e parliamo di miliardi di persone che semplicemente le AI non vede non vede nei suoi addestramenti e quindi come possiamo pensare di progettare una tecnologia che funzioni anche per quelle persone lì non ce la facciamo per questo è importante che noi testiamo su un campionario più ampio possibile perché se non le prendiamo in considerazione la tecnologia non funzionerà per loro quindi la sfida è anche avere la capacità di selezionare bene i dati per evitare queste over rappresentazioni come nel caso degli Stati Uniti però qua si pone un'altra domanda assurda chi sceglie? Chi sceglie che dati prendere chi sceglie quali sono i paletti giusti da mettere perché adesso quelli di charge gpt li ha decisi OpenAI ma chi ci garantisce poi in futuro chi deve mettere queste linee guida la Cina che linee guida metterà le metterà non sappiamo niente in sostanza gli Stati Uniti che hanno un approccio ancora diverso come linea governativa rispetto a quello europeo che cosa faranno? chi decide cosa è giusto e cosa sbagliato all'interno delle AI chi decide finché parliamo di non insultare più o meno possiamo essere tutti d'accordo ma ci sono tante cose molto più sottili e cosa è giusto e cosa no sì diciamo che da questo punto di vista non possiamo indirizzare un apprendimento comune come esseri umani ma come comunità quindi torniamo a ridurre il mondo in diverse internet con diverse idee e regolamenti e diverse intelligenze artificiali con diverse idee e regolamenti secondo me adesso storicamente siamo arrivati anche a un paradosso perché ora ci stiamo ponendo in questo podcast in questa chiacchierata qui adesso addirittura il privilegio di dire possiamo scegliere quali dati mettere e quali no in realtà non è nemmeno così tanto vero premesso che ci sono alcune cose che non sono proprio rappresentate ma non abbiamo abbastanza dati cioè è stato dimostrato con una serie di paper e ricerche che questi modelli tanti più dati vedono tanto più diventano intelligenti e se viviamo un mondo dove in realtà il dato è come se fosse il nuovo petrolio quindi c'è una scarsità e quindi c'è anche una corsa ad ottenere questo dato come facciamo adesso a come dire scegliere di dover scegliere quali dati quando in realtà non ne abbiamo abbastanza quindi per alimentare le AI e farla più forte quindi più utile a quelli che sono i nostri scopi perché alla fine la tecnologia deve essere al servizio dell'essere umano come facciamo in questa situazione? ad esempio lato linguistico questo è un grosso problema perché se immaginiamo l'informazione che c'è in giro nel web in gran parte è fatta in inglese una lingua come l'italiano in partenza è già perdente perché tutto quello che si può trovare in italiano è molto più piccolo di quello che si può trovare in inglese quindi la qualità delle cose fatte in inglese tendenzialmente sarà sempre superiore a quella dell'italiano e l'italiano è una lingua comunque ancora abbastanza parlata ce ne sono altre molto più piccole che inevitabilmente rischiano di scomparire perché non sono viste dalla tecnologia rimarranno indietro è un problema che ci dobbiamo porre diventeranno dei dialetti locali insomma se sopravviveranno perché c'è anche quel tema lì adesso non parliamo solo della lingua parlata dalla tribù in Amazzonia ma ci sono tante lingue parlate da un po' di persone ma non abbastanza per essere viste da questi algoritmi che lavorano a livello globale e quindi se una tecnologia diventerà molto più ottimizzata per l'inglese lo stimolo delle persone sarà di imparare l'inglese e lasciare da parte la loro lingua però è una sorta anche di evoluzione dell'essere umano se si può dire c'è sempre stato questo cambiamento di lingue nei popoli aggregati nei popoli creati da zero vero però crea un'inefficienza importante anche nel sistema economico cioè alla fine della fiera è un vantaggio competitivo utilizzare una lingua o fare in modo che l'educazione di quel paese possa aiutare il sistema a sviluppare in quella lingua che siano le attività economiche o anche codice o istruire dei modelli di AI quindi in realtà nel breve genera anche disparità quindi divide quasi più che unire nonostante poi stiamo unificando la lingua e alla fine stiamo permettendo a persone di paesi diversi di riuscire a connettere sempre di più e poi scusa c'è un tema anche culturale nel senso che una lingua tendenzialmente rappresenta la storia di un certo popolo rappresenta come questo popolo ragiona come ha affrontato la vita è una ricchezza cioè se noi la perdiamo perdiamo dei pezzi importanti della nostra storia come umanità quindi io non vedo dei grossi problemi ad approdare ad avere tutti diciamo una seconda lingua comune come già un po' l'inglese adesso che ti permette di viaggiare di avere più opportunità lavorative non è un problema però se l'inglese diventa così tanto predominante rischiamo di perderci dei pezzi di noi stessi e in un momento in cui ci stiamo interrogando proprio su cos'è l'umanità perché stiamo entrando in contatto con un'intelligenza artificiale che ci mette in crisi credo che sia importante che ce li teniamo ben stretti questi pezzettini che ci qualificano come esseri umani assolutamente magari insomma l'intelligenza artificiale creerà un dispositivo per la traduzione simultanea efficacissimo e non un po' zoppicante come vi tanto ne vedo in giro e magari parleremo tutti la nostra lingua nativa e quindi si avrà risolto il problema ma non quello dei dati chiaramente cosa succederà secondo te Denis? sul tema del linguaggio io lo spero che arriveremo in un futuro di quel genere dove riusciremo a preservare tutti i linguaggi e l'AI farà un po' da collante comune purtroppo se devo guardare ai dati non sono così ottimista e vorrei esserlo ma non riesco a esserlo perché proprio l'AI per funzionare bene ha bisogno di numeri chat GPT ad esempio è basato su GPT3 parliamo di 175 miliardi di parametri il modello di Google Palm parliamo di 540 miliardi di parametri ho detto milioni prima se era e miliardi sono numeri molto molto impressionanti non possiamo metterci lì noi nelle caselle di Excel non possiamo metterci noi assolutamente quindi se una lingua ha poche informazioni pochi dati è anche molto difficile addestrare un AI per far tradurre le cose ad esempio dall'inglese a quella lingua quindi a meno che in futuro la tecnologia non ci sorprenda ancora e quindi non non tiri fuori il classico coniglio dal cappello la vedo un po' difficile che in futuro avremo un sistema di questo tipo e quindi penso sia doppiamente importante che noi siamo consapevoli della cosa e facciamo in modo di non arrivare a quel tipo di futuro dai bias alle lingue alla fine della fiera secondo me la verità è che istruire un modello è un casino perché ti pone di fronte a una situazione in cui sei estremamente responsabile sei responsabile di quello che stai facendo sei responsabile di tutti gli output che quel modello potrebbe potenzialmente generare in infiniti contesti su infinite cose che le persone potrebbero potenzialmente chiedere non so se la nonna adesso ha cioè no stiamo volando però va bene no no assolutamente si capisce e in questo momento la responsabilità mi sembra assolutamente controintuitiva rispetto al periodo storico che stiamo vivendo però è un po' anche qui e torno ad essere il positivo dei tre a questo punto una delle cose che ci differenzia dalle macchine in generale è una responsabilità anche di generazioni di chi oggi vuole vivere questo pianeta vuole continuare a vivere su questo pianeta quindi insomma è un lavoro da fare anche per Indigo e per tutti quelli che è un lavoro bellissimo alla fine tutte queste tecnologie parliamo sempre di AI parliamo di magia sono al servizio delle persone servono anche al miglioramento delle persone stesse perché ci pongono di fronte a uno specchio e quindi guardiamo le nostre paure le nostre debolezze dobbiamo uscirne più forti perché alla fine la fiera servono a questo quindi a migliorare quello che facciamo quello che vediamo quello che sentiamo quindi io mi sento di dire che la potenza della magia delle AI è veramente raggiunge livelli importanti però è niente senza controllo e senza responsabilità mi piace mi piace assolutamente ma penso che io e Gianluca se siamo qui a lavorare nel campo delle AI è proprio perché siamo innamorati della tecnologia e del potere e della potenza che ha e allo stesso tempo siamo qui a parlare appunto di come educare un'intelligenza artificiale perché vogliamo che sia una tecnologia che funzioni per tutti quanti non solo per sempre lo stesso insieme di persone quindi bellissimo questo potere mettiamolo in campo per fare qualcosa di buono e anche oggi si va a salvare il pianeta grazie mille ragazzi grazie a te grazie a te